Monaco, evangelizzatore, amante della solitudine, fondatore di monasteri cenovitici, interlocutore di re e di papi, uomo d'azione nella società civile del tempo, Colombano fu un eterno pellegrino, possiamo definirlo così. Dalla sua terra natale, l'Irlanda, si recò in Bretagna, quindi in Gallia, da qui in Svizzera per passare in Italia, dove concluse il suo pellegrinaggio terreno. Era nato nel regno di Leinster, nell'Irlanda centro-orientale tra il 525 e il 543. Sui vent'anni, vincendo le resistenze materne, si era recato presso un santo uomo di Nova Sinel, che lo introdusse nello studio della scrittura. Poi si recò nel monastero di Bangor, dove fu ordinato sacerdote. Era il novizio più fervente, forse l'abate pensava di averlo prima come sostegno e poi come successore, ma a un certo punto con dodici compagni, Colombano parte e si stabilisce in Gallia, a Donegrey, poi fonda i monasteri di Luxeuil e di Fontan e altre comunità cenobitiche. Siamo verso la fine del secolo VI, quando l'Europa occidentale per l'invasione dei barbari aveva praticamente accettato un ritorno alle superstizioni e ai costume pagani dei nuovi padroni. nello spirito degli irlandesi però c'era l'ansia missionaria, questo è tipico di quel paese, di restituire alle popolazioni imbarbarite d'Europa la fede e la cività cristiana. Allora vent'anni dopo il santo lascia Luxeuil sognando di evangelizzare i pagani in Svizzera, ma ne è distolto dall'apparizione di un angelo che lo invia in Italia per lottare contro l'eresia ariana che stava prendendo piede. Ma non vi giungerà subito. A causa dei suoi duri rimproveri all'incontinente del giovane rete odorico e la sua opposizione all'accesso al trono dei suoi figli illegittimi, Colombano viene esiliato a Besançon. Riesce a fuggire, viene ripreso e condannato a tornare in Irlanda, ma appena condotto a Nantes riesce nuovamente a fuggire sul lago di Zurigo poi a Bregenz. Arriva in Italia nell'autunno del 614 e fonda il monastero di Bobbio, che c'è tuttora, dove il 23 novembre dell'anno dopo lo coglie la morte.